l'autosquadra il porridge buongiorno bambini che bella giornata qualche nuvoletta e tutti i colori della luce del sole il camioncino bo esce dal garage buongiorno bo stai uscendo in missione e noi bambini lo seguiamo che cosa porta nel cassone non vi sembra una ops che bel palloncino a chi sarà sfuggito vola sempre più in alto si lo seguiamo insieme a bo ma quanto va in alto attento una pietra bo che cosa è caduto dal tuo cassone una pentola rossa con interno beige e un coperchio in vetro col pomo blu tutto per la cucina ma cerchiamo di capire meglio con le doppie figure una teiera e l'altra no eccola una brocca con del latte no no ecco l'altra una ciotola cerchiamo l'altra no no sì bellissima un mestolo la pentola no trovato ormai sappiamo dove sono le due pentole eccole restano i due cucchiaini fantastico ehi mimì buongiorno una bella doccia ci prepara alla giornata che piacere quant'acqua ora prepariamo la colazione ma con cosa ci pensa max vuoi una colazione perfetta vero fiocchi d'avena buoni il palloncino ci giocheremo più tardi wow latte sì perfetto che bel pallone ma non serve ora un ombrello per la pioggia c'è il sole fragole buonissime prendiamole e andiamo max ma chi sta aspettando in cucina scopriamolo con il puzzle lei è sicuramente mimì che c'è vicino a lei siamo in cucina e sul fornello c'è la pentola rossa chi l'ha portata è vero bo lui l'aveva nel cassone quindi stanno aspettando per la colazione mimì e bo è arrivato max evviva versiamo i fiocchi d'avena nella pentola aggiungiamo il latte accendiamo la piastra che fa calore ma che cosa ci serve adesso un mestolo da zuppa girando gli ingredienti così caldi facciamo il porridge una zuppa di avena e latte che profumino scodelle rosa blu e verde mettiamo il porridge nel piatto verde in quello blu e in quello rosa ah già le fragole una fragola per uno e la zuppa per tutti buona colazione bambini e poi tutti a giocare con l'autosquadra a giocare con l'autosquadra